ciò che vide allora fu tanto orrido che a confronto le sue più tetre fantasie sulla cosa in cantina perdevano ogni consistenza la sua sanità mentale ne fu distrutta in un sol colpo benvenuti a tutti amanti dell'horror io sono ash e da oggi inizierà il nostro viaggio all'interno della letteratura di questo tipo bene godetevi la sigla fermo 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 un attimo prima di iniziare volevo mostrarvi una cosa ecco bello vero ha un profumo spettacolare questo libro da come potete vedere molto consumato ed è passato di maniera mano in mano è uno dei pochi libri che ha resistito alla classica frase mi presti un libro lo leggo e poi te lo restituisco beh voi siete tra quelli che non l'avete mai restituito vero sì perché solitamente è così che va a finire con voi scrocconi di libri bene questo dovete sapere che il mio primo romanzo letto ed è stato lui ad iniziarmi a questo mondo ora possiamo goderci la sigla eccoci di nuovo insieme immagino che tu sia sopravvissuto sia la sigla che alla noiosissima intro quindi adesso possiamo adentrarci in quello che è it di stephen king ovvero il mio primo romanzo come abbiamo già detto prima è stato lui ad avvicinarmi al mondo dell'horror ed ero appena un bambino l'ho riletto più avanti sia ad adolescente sia ad adulto e questo mi ha permesso di viverlo in maniera diversa di assaporarlo con filtri diversi con una concezione del mondo diversa quindi l'ho visto sempre da un'ottica una prospettiva differente alla lettura precedente con un bagaglio di esperienza e di letture alle spalle diverso bene essendo il mio primo libro ho deciso di iniziare da qui per fare questa serie di video dedicati alla letteratura e lo faccio non solo per un legame affettivo ma anche perché questo lo considero uno dei migliori titoli di king uno di quelli che mi ha appassionato di più e soprattutto lo reputo un ottimo punto di partenza se vuoi avvicinarti a questo autore sì è un libro un mattone un libro pesante un libro impegnativo ma dentro racchiude un po quello che è king racchiude le tematiche di cui parla solitamente nei suoi libri che contiene una parte del suo universo che in qualche modo è sempre collegata c'è sempre un filo conduttore con le altre sue opere e poi perché pennywise e tutti i personaggi che sono all'interno del libro sono ben caratterizzati tanto che questo romanzo racchiude al suo interno un sacco di racconti un sacco di storie gli danno quasi una collocazione temporale come se tutto quello successo sia accaduto realmente iniziando a leggere già dalle prime pagine king è capace di trascinarci all'interno del suo mondo ci sentiremo noi quel bambino con l'impermeabile giallo che corre inseguendo la barchetta sentiremo il dolore al ginocchio quando cadremo e proveremo terrore e quasi stupore nel comprendere che la barchetta sta finendo lì nello scarico delle fogne dove ci attende il nostro destino dove vedremo per la prima volta pennywise in una delle sue forme forse la più comune e la più conosciuta ovvero quella di un pagliaccio che nel libro georgie associa clara bell e bonzo che sono due pagliacci immagino americani ma aggiunge anche che se georgie l'avesse visto qualche anno dopo avrebbe associato questa figura di più a mcdonald al pagliaccio di mcdonald quindi più o meno ci siamo fatti un'idea di questa sua forma apparente e non reale di hit ed è lì che georgie troverà la sua fine questa è una delle scene più famose di hit immagino che anche chi non ha letto il libro o visto i due film la conosca perché più o meno giro ovunque ed è così che king decide di trascinarci nel suo mondo in modo brutale crudo senza pietà noi conosceremo la follia già dalle prime pagine e più andremo avanti più ci addentreremo in essa il romanzo è ambientato a Derry una città che vivremo in due periodi storici diversi nel 58 quando i nostri protagonisti sono dei bambini e nell'85 quando i nostri protagonisti tornano e sono adulti questa città è talmente reale nella sua finzione che man mano che andremo avanti nella lettura la sentiremo quasi come se fosse casa nostra ci immedesideremo così a fondo da renderla quasi la nostra città noi vivremo assieme ai protagonisti il loro periodo di massima spensieratezza da bambini con i loro problemi i loro orrori che li accompagneranno e scopriremo la nostalgia di ritornare in un posto dove siamo cresciuti e che abbiamo abbandonato per diversi anni vedremo il cinema in cui eravamo abituati ad andare tutti insieme decaduto vedremo la biblioteca e così facendo ci lasceremo trasportare da questa nota di nostalgia da questi ricordi da questa infanzia e sia da adulti che da bambini ci renderemo subito conto che nonostante il contorno nonostante sembri una città normale c'è qualcosa che la comprime qualcosa di marcio un'ombra un'ombra che la ricopre tutta e opprime tutti i suoi abitanti un'ombra che li controlla che li annebbia la mente vedremo questi abitanti ignorare il fatto che dei bambini scompaiono o che ci sono delle tragedie ogni tott'anni è come se non lo ricordassero come se non riuscissero a realizzare quello che sta accadendo e gli unici che riescono a farlo sono appunto i nostri protagonisti loro che amano definirsi club dei perdenti sono sette e li vedremo sia in forma giovanile da bambini sia da adulti bene iniziamo con elencarveli accennarveli appena questi personaggi abbiamo Bill che è il capo del gruppo quello che fa da collante a questo club purtroppo è stato lui a perdere il fratellino Giorgi quello di cui parlavamo all'inizio e ha seri problemi a parlare infatti tartaglia ma questo non gli impedisce di essere appunto anche il cantastorie del gruppo quello che si inventa dei racconti e con questi incanta tutti gli altri assieme a lui tra i primi due di questo gruppo abbiamo Eddie che è il più fragile di tutti è quello che vive poverino sotto l'ombra di una madre opprimente maniacale che lo vuole isolare da tutto e tutti per lei non esiste nessun altro che suo figlio lo vorrebbe sotto una cupola di vetro in un posto dove può ben controllare cercherà più volte di allontanarla dagli altri amici cercarlo di isolarlo dal mondo e questo lo fa crescere appunto molto insicuro molto timido e molto fragile Eddie tra l'altro è anche uno dei miei personaggi preferiti assieme a Ben e Beverly ed è appunto di Ben che parleremo lui nel romanzo è appena arrivato è nuovo in città e si ritrova a dover fare subito i conti con la banda rivale la banda dei Bowers che sono dei ragazzini molto violenti che fanno bullismo Ben viene preso in giro sin da subito da questa banda perché è sovrappeso e questo lo rende purtroppo una facile preda da parte dei Bulli soprattutto se mettiamo che è anche lui molto timido molto introverso ma nel gruppo si dimostrerà quello più capace a livello tecnico e pratico nel costruire ama moltissimo andare in biblioteca ed è innamorato forlemente di Beverly Beverly è l'unico personaggio femminile all'interno del libro lei è diciamo quella di cui tutti sono un po' invaghiti soprattutto Ben e che ovviamente è cotta di Bill del leader e anche Bill ricambia purtroppo per lei nonostante circondata da questi amici fantastici questi ragazzi molto affiatati a casa non è non è altrettanto fortunata lei vive solo col padre e lui si dimostra essere un tipo molto violento e severo con la figlia si ogni tanto mostrerà anche l'affetto che prova per la figlia ma questo non cambierà le cose e non lo giustificherà per niente poi abbiamo Ricci Ricci nel gruppo è quello comico quello più impulsivo è quello che cerca di tenere sempre sul morale nonostante la situazione sia magari delle peggiori Ricci metterà anche nei guai spesso il gruppo per colpa di questa sua impulsività per colpa di questo suo bisogno di essere al centro dell'attenzione anche lui è vittima di bullismo il miglior amico di Ricci è Stan il ragazzo scout del gruppo lui sarà quello che non riuscirà a credere all'esistenza di Hit sin da subito avrà bisogno di più conferme perché non riesce a razionalizzare questa presenza paranormale in un contesto reale e per ultimo ma non ultimo abbiamo Mike lui è l'ultimo ad entrare nel gruppo ed è il ragazzino di colore potete immaginare perché venga preso in giro dai Bowers appunto per il colore della sua pelle e anche per altre ragioni che andremo a vedere ora i Bowers questa banda di bulli violenti di cui accenerò solo quelli importanti e non gli altri secondari che magari non si faranno neanche più vedere nel gruppo ed è Harry è il capo del gruppo ed è il più sadico il più violento tanto che arriverà anche a incidere una parte del suo nome sulla pancia di Ben e proverà anche a uccidere i ragazzi è lui che li perseguiterà è lui che spingerà il suo gruppo la sua banda di bulli contro il nostro club dei perdenti Harry è cresciuto sotto un'atmosfera di odio e violenza il padre l'ha manipolato sin da piccolo ad odiare infatti loro sono confinanti con il terreno dei genitori di Mike e il padre ha sempre spinto il figlio verso l'odio a queste persone di colore perché loro hanno un terreno migliore perché loro non si meritano di stare lì dovrebbero stare al posto loro e soprattutto non meritano di essere vicini a persone di colore i due fedelissimi di Harry sono Bletch e Victor anche loro non hanno avuto una bella infanzia anzi piuttosto turborenta soprattutto Bletch o come si pronuncia lui è quello più grosso del gruppo il tontolone e fa tutto quello che Harry gli dice Victor invece è quello più intelligente però sceglie lo stesso di stare dalla parte di Harry nonostante ogni tanto mostri rimorso risentimento e cerchi anche di aiutare i protagonisti assieme a loro ci sta anche Patrick che tra tutti è il personaggio più ambiguo mostra i segni della psicopatia ovvero la mancanza di empatia tortura degli animali li rinchiude in un frigorifero e lì li tiene morti come trofei trofei che mostrerà solamente a Harry questa è una figura molto interessante e non voglio andare oltre nell'analizzarla perché gradirei leggere qualche vostro commento in riguardo ed eccoci arrivati al pezzo forte quello che tiene insieme tutto il romanzo quello che spinge perdenti a stare uniti fino alla fine ed è It ovvero come si presenta lui Pennywise il pagliaccio ballerino questo tra tutti i personaggi di King mostra quanto questo autore sia stato molto influenzato da Lovecraft infatti It come molti personaggi di Lovecraft non ha una vera forma il nostro cervello non riesce neppure a concepire quale sia la reale forma di Pennywise e il solo avvicinarci a essa ci porterebbe verso la follia verso la morte il nostro cervello potrebbe spegnersi esplodere o lasciarci in uno stato catatonico per sempre la reale forma aliena di Pennywise non viene marcata in modo definitivo non ha dei contorni ben precisi e lui del resto ama assumere forme di altre cose lo vedremo nei panni del lupo mannaro del mosso della laguna del pagliaccio lo vedremo nei panni del fratellino di Bill lo vedremo come uno schizzo di sangue o come una mummia in sostanza lo vedremo in modi diversi come lui ama farsi vedere alle sue vittime perché lui cercherà sempre qualcosa che terrorizzi il più possibile la sua preda perché è solo col terrore che riesce a condire la carne a darle quel sapore che piace a lui quando la mangia quando si nutre it si nutre di carne umana e paura è un essere eterno immortale e non riesco neanche a immaginare quale sia il coraggio di questi perdenti che tanto perdenti non sono che decidono di affrontarlo consapevoli della minaccia a cui vanno incontro consapevoli di quello che è it ma loro attraverso l'unione cercheranno la forza per combatterla oltre a Pennywise come creature paranormali verranno tirate in ballo anche la tartaruga e l'altro l'altro è l'essere più antico nell'universo di King e verrà appena accennato in questo romanzo ne parlerà in altri poi abbiamo la tartaruga che è un po' il bene la rappresentazione del bene abbiamo it che è il mal assoluto e la tartaruga dirà con disprezzo quando si rivolgerà con lei sarà sempre con disprezzo dirà che è stata lei a vomitare fuori l'universo assieme a it stesso e un'altra cosa questo personaggio la tartaruga appunto di cui si ne parla io l'ho sempre immaginato un po' come la tartaruga della storia infinita ho detto mille volte la parola tartaruga va benissimo un po' come il personaggio della storia infinita non so se avete presente quella tartaruga ma infinitamente più grossa bene questo era tutto quello che volevo dirvi su it qualcosa l'avrò sicuramente dimenticata qualcosa l'ho volutamente trasciata per non fare spoiler a chi magari non l'ha letto in ogni caso fatemi sapere voi nei commenti cosa avete provato nel leggere it cosa cosa vi è piaciuto di questo romanzo e soprattutto fatemi sapere anche qual è la vostra prima esperienza con l'horror e così siamo arrivati alla fine di questo video grazie di avermi seguito finora vi voglio anticipare che il prossimo video sarà dedicato alla nascita dell'horror nel mondo della letteratura quindi non parlerò di un titolo specifico ma parlerò di come è arrivato a noi signore e signori è stato un piacere io sono Ash e ci vediamo alla prossima ah 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 ah